Partita che inizia a rivestire un importante valore di classifica, quella tra Fontanelle e Branca e Petrignano. Iogubini senza Gaggioli ripropongono il 4-3-2-1 con Battistelli e Bellucci a supporto di Marco Gaggiotti. Il Petrignano riconferma il 4-3-3 con Gaggiotti, Andrea, Iacchetta e Menichini a comporre il tridente d'attacco. Un primo tempo abbastanza di poche emozioni dovute anche all'incessante pioggia che non smette mai di cadere. Si registrano infatti solo questa conclusione di Menichini al diciannovesimo, alta di poco, mentre al trentanovesimo è bravo Fiorucci ad uscire su Andrea Gaggiotti. Tutto qui il primo tempo, non si può dire altrettanto della ripresa che inizia subito a sprombattente. Al tredicesimo Battistelli fa tutto da solo e il suo tiro si infrange sulla traversa con Farabi che avrebbe potuto fare ben poco. Quattro minuti più tardi risponde il Petrignano, Iacchetta, il suo tiro è ribattuto da Lucarini in scivolata. Protesta il Petrignano al ventinesimo del primo tempo per questo presunto contatto tra Cesaroni e Giuliacci. I crie chiedono ventemente il penalty i giocatori di Guazzolini. L'arbitro, la signorina Postanzini di Foligno, decide di far proseguire. Passa un minuto e il neo entrato Montanari impegna Farabi con un insidioso rasoterra. È l'inizio di un periodo d'oro per il Fontanelle Branca perché al venticinquesimo invece è Marco Gaggiotti ad impegnare ancora una volta Farabi. In una bella parata in tuffo il periodo d'assalto degli Eugoblini si conclude al ventisettesimo quando Battistelli si invola sulla destra. Mette in mezzo per Marco Gaggiotti che aggancia la sfera ma non riesce a deviarla in rete. Dopo queste occasioni per il Fontanelle Branca arriva inequiparabile la beffa quando al trentatresimo Menichini e Giuliacci si avventano su una conclusione rispinta da Fiorucci e Menichini a trovare il pertugio giusto e a portare in vantaggio il Petrignano per il prezioso 1-0. Il Fontanelle Branca le prova tutte per poter riuscire ad agguantare il pari ma di pericoli ulteriori dalle parti di Farabi non se ne vedono. Finisce dunque con il Petrignano che porta a casa tre preziosissimi punti per la sua classifica. Per il Fontanelle Branca continua il periodo negativo per quel che riguarda i risultati. È un periodo che non ci gira bene però non posso dire niente ai miei ragazzi perché hanno fatto una buona partita su un campo presso pesante dalla pioggia. Abbiamo avuto diverse occasioni, li abbiamo buttati dentro e nel calcio se sbagli poi paga. Il Petrignano è una squadra compatta, una squadra formata da giocatori importanti. Credo che oggi noi abbiamo fatto un'ottima partita però in questo momento ci gira tutto alla rovescia e abbiamo perso anche questa innanzima partita bisogna lavorare senza armaricarsi tanto bisogna guardare presente il futuro. Speriamo anche di recuperare qualche infortunato e poi nel calcio chi sbaglia paga. Noi abbiamo sbagliato troppe occasioni e abbiamo pagato alla fine. Mi dispiace solo per i miei ragazzi perché credo che oggi hanno fatto un'ottima partita. Per noi in settimana l'abbiamo preparata che era una partita difficilissima che su questo campo qua vincono quasi mai, passano anni magari che non perde il Fontanella in casa però questa squadra qua io avevo bisogno di, noi avevamo bisogno di una partita importante come questa per vedere che eravamo vivi ma non tanto per risultato finale, è chiaro noi servono come il pane però per vedere dove poteva arrivare. E sta squadra qua è viva e quello che a me fa più piacere anche se poi era finita con un altro risultato. L'avevamo detto a fine primo tempo cioè il bel gioco oggi non esisteva. Chi aveva più voglia, chi aveva più fame una mezza palla, una palla sporca riusciva a vencerla. Il ragazzo ha risposto bene e sono contento per il risultato sì ma più che mai perché ho una squadra viva e questo qua ci permette di lavorare con serenità in settimana e non porsi nessun limite siamo ancora ultimi. Ci rimettiamo giù martedì, rilavoriamo però con una squadra viva è più facile lavorare insomma quindi bene, prendiamo anche i tre punti e andiamo avanti.